Il primo verdetto per quel che riguarda la Champions è stato scritto ieri sera, il Napoli passa agli ottavi. C'era la massima incertezza, anche se qualcuno pensava che il Napoli potesse arrivare al primo posto in carrozza così come è stato, perché poi si sono verificate alcune situazioni che hanno reso tutto molto più facile, ad esempio il 4-0 al termine del primo tempo che il Besiktas stava subendo in trasferta. Questo ha liberato in un certo senso le tensioni e allora ecco che torna d'attualità. L'argomento sul quale mi volevo per un attimo soffermare per voi è che una squadra quando non ha tensione si trasforma e il Napoli ha cominciato a volare. Qual era la tensione? Beh, intanto la possibilità eventualmente di poterla perdere la partita con il Benfica, perché se poi ti sbilanci crei e dai la stura alla squadra avversaria di poter eventualmente farti male. Ed ecco che le tensioni hanno improvvisamente fatto sì che tutto si trasformasse, la tensione positiva in questo caso dovuto alla certezza.